allora voglio sapere una cosa innanzitutto quanto è stato difficile dall'inizio alla fine coordinare tutti i reparti nel senso quello che mi sembra a vederlo difficile di questo film è che non ha niente dietro di sé perché immagino tutte le persone che ci hanno lavorato te incluso non hanno mai fatto niente di tutto questo quindi quando è stato complicato riuscire a ottenere quello che volevi no è proprio così nel senso che abbiamo dovuto prima imparare o diciamo pensare come tecnicamente si potesse organizzare un film del genere cioè una cosa è quando scrivi esonda il tevere i manipoli cadono in battaglia saltano i pezzi delle persone c'è una cosa è quando uno scrive quelle scene un'altra cosa ovviamente a riportarle e metterli in scena tutti i reparti hanno dovuto fare un tipo di studio nuovo che poi tu hai seguito anche sul set nel senso si sono tutti incontrare molto prima con me quindi costruire queste sequenze che sono fatte ovviamente di storyboard del coinvolgimento di persone che non sono abituate a lavorare insieme cioè di solito i lavori nel cinema sono molto segmentati inizia lo sceneggiatore dopo c'è lo stand coordinator sul set poi c'è il trucco poi c'è la post produzione in questo caso per creare queste sequenze bisogna mettere insieme queste persone che non sono abituate a conoscersi cioè si presentano e scomporre tutto quello che vogliamo raccontare in mattoncini è una muraglia cinese fatta di piccoli mattoni che deve essere scomposta e da lì si inizia a fare tutto un lavoro di condivisione fra i reparti come appunto eseguito anche tu che porta appunto chi si occupa di trucco e prostetici a parlare con gli stuntman a parlare con chi farà i vfx che magari sono persone che lavoreranno sul film mesi dopo ma che lavorano e vengono sul set sapendo che a un certo punto quello shot arriverà a loro che magari sono stanno all'estero e dovranno tutti insieme comporlo ci sono diverse sequenze che non sono mai state fatte prima in italia che quindi hanno avuto bisogno di uno studio dietro proprio di fattibilità di costruzione cioè di come si facevano ovviamente utilizzando tecniche tecnologie che sono quelle europee ti è capitato cercando magari facendo scouting per appunto per maestranze di avere o a che fare con persone che hai capito non fanno per me magari sono bravi ma non fanno per questo film oppure magari aver parlato con le persone che poi hanno lavorato con te e aver dovuto dire no però non lo facciamo come solitamente si fa facciamolo in un'altra maniera c'è molto questa abitudine in italia come ti dicevo al lavoro compartimentato cioè c'è poco l'idea che reparti diversi parlino fra di loro il lavoro del regista cioè il regista è un lavoro che diciamo io dico sempre che il film è perfetto quando il regista non deve venire sul set infatti deve sempre venire non è mai perfetto perché bisogna come dire creare una sintonia una comunicazione fra gruppi di lavoro che spesso e volentieri non si conoscono quindi anche lì nel casting di queste maestranze ho molto riflettuto su chi fosse più adatto al lavoro in team adatto al lavoro in gruppo e avesse voglia anche di fare quel qualcosa in più cioè qui hanno lavorato sul film reparti che non avevano come dire nessuna prudenza nessuna attenzione e paura allo sperimentare al provare qualcosa di nuovo al mettere insieme tecniche e tecnologie che magari avevano usato una volta per quel film americano una volta per quel film inglese ma non avevano mai messo insieme quasi tutti mi hanno detto alla fine durante la lavorazione abbiamo imparato come provare a fare questa cosa e io per primo perché io stesso ho dovuto imparare avevo fatto con il mio film precedente delle sequenze d'azione un po complesse che avevano alla base diciamo una se vogliamo filosofia simile di costruzione però questo è completamente nuovo nel senso qui c'è qualcosa di più organico di più complicato che deve però farci pensare cosa deve farci pensare che diciamo non non esiste la parola cinema italiano esiste la parola cinema fatto in italia che deve secondo me cercare poi di comprendere qualunque storia vogliamo raccontare da dove si va dopo un film di questo tipo che come hai fatto veloce come il vento che era un film di corse e azione chiaramente impeccabile hai fatto un film che genere gli daresti secondo te che genere fin sul divino come diciamo che borderline colazione perché c'è tantissima azione azione un film storico d'azione dove si va dopo quanto è costato questo questo film è costato circa 9 milioni di euro e non ha diciamo la fortuna di aver preso questi capitali per buona parte all'estero diciamo all'incirca un diciamo potremmo dire un 55 45 per cento fra italia e il resto del mondo quindi è un film che esce molto dai nostri confini nazionali nella fase già produttiva però da un punto di vista registico io adesso 37 anni non faccio mai che abriale un film pensando che film farò dopo non vedo mai un mio film in un percorso vedo il film cioè vedo la storia che voglio fare in quel momento la voglia anche la voglia proprio in senso etimologico la voglia di mettermi su una storia organizzo costruisco quel film lo faccio e poi è ricominciato a zero cioè non ho idea di quale sarà il mio prossimo film forse non lo so non ne farò mai più però diciamo che in questo momento questo è il film è finito ma dico un'ultimissima cosa è evidente che tu hai fatto giustamente un salto di ambizioni grandissimo e mi viene da pensare che una persona che vuole fare un film più grande ma più grande ma più grande anche dopo questo vuole fare più grande ma non lo so nel senso io qui ho fatto un film grande perché la storia lo richiedeva nel senso era una storia ambientata in un mondo che andava costruito era una storia con sequenze action che andavano realizzate magari mi verrà in mente un film fortemente emotivo ma semplicissimo devo dire io ho un calore rispetto a questi personaggi che sono presenti nel primo re rispetto a questo racconto ho un'emotività e un'emozione che voglio poi che poi ha un po il centro anche in veloce come il vento in fondo io raccontavo molto anche lì due fratelli raccontavo in fondo questa sintesi molto semplice che si potrebbe raccontare anche con molta meno diciamo grandiosità ma quella è la mia visione del cinema cioè io vorrei che lo spettatore si sedesse sulla poltrona e vedesse uno spettacolo voglio che veda appunto qualcosa di quello che è stato per me il cinema cioè per me il cinema è stato il cinema sei come dire degli anni 90 no un cinema hollywoodiano che mi portava da un'altra parte cioè mi sollevava dalla mia poltrona del cinemino del quartiere e mi faceva sognare un'altra cosa ho bisogno di quello perché quello per me è una motivazione grazie mille grazie grazie mille grazie a Nakonen